Romano di voi perché è un po' colore Eeeh, che vuol dire? Che vuol dire? C'è tornato un po' di morte E' un po' di pazzo, no? E' lo scontro che tra l'altro è un po' tantissimo E' un po' tantissimo E' un po' tantissimo E' un po' tantissimo E' un po' tantissimo Comunque Ci andiamo un pezzetto avanti E parliamo Ciao 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 Ciao